Non ci saranno aumenti di tasse, non ci sarà alcun commissariamento o tagli ai servizi della sanità in Abruzzo. Il tavolo di monitoraggio sulla spesa sanitaria istituito presso i Ministeri della Sanità e di Economia e delle Finanze nella riunione di Roma ha dato parere favorevole al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo e approvato nei giorni scorsi dal Consiglio regionale per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023. A darne notizia è l'assessore regionale con delega alla salute Nicoletta Verì. Attraverso l'approvazione da parte del tavolo di monitoraggio delle coperture finanziarie individuate viene garantito l'equilibrio economico finanziario dei conti. Il prossimo passaggio è l'individuazione dei piani di razionalizzazione delle spese delle quattro ASL così come previsto dall'articolo della legge approvata al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti. Gli strilli delle forze di opposizione sono parsi quantomeno inopportuni a detta della Verì se si pensa che in passato le ASL abruzzesi hanno avuto disavanzi, basta andare a vedere i vecchi bilanci, ha spiegato l'assessore. Decine di milioni all'Aquila, Chieti, Teramo che la Giunta ha sempre provveduto a ripianare. I piani di razionalizzazione dovranno includere un'analisi dettagliata delle risorse umane, tecniche e finanziarie oltre a prevedere proposte di miglioramento nell'allocazione delle risorse includendo strategie di ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie sanitarie esistenti. Infine i piani di razionalizzazione dovranno anche individuare misure per incrementare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e sociosanitari.